Potrebbe esserci una correlazione fra il settimanale Chi e la settima edizione del Grande Fratello Vip. L'anello di congiunzione, ovviamente, risponde al nome di Alfonso Signorini. Lui, oltre a essere il direttore del settimanale scandalistico, è anche autore del reality, oltre che conduttore. Un duplice ruolo che gli garantirebbe decisione sui contenuti che usciranno in edicola e voce in capitolo sui vipponi da scritturare per la casa. E non è certo un caso se il primo concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Giovanni Ciacci, è stato rivelato dal settimanale Chi. Lo stesso settimanale che nel corso degli ultimi due mesi, ovvero luglio e agosto, ha intervistato celebrità che poi ci ritroveremo nella casa più spiata d'Italia. O questo almeno è ciò che riportano i rumor più insistenti. Oltre il pizzetto blu più famoso della tv il noto settimanale nelle ultime settimane ha intervistato anche Antonino Spinalbese, Pamela Prati, Carolina Marconi, Giordi Ciupilan e Gegia. Nomi che sono tutti con un piede dentro la casa, per questo motivo non sarebbe sbagliato incentivarvi a sfogliare con attenzione i vostri numeri di chi perché proprio fra gli intervistati potrebbero nascondersi gli ultimi vipponi non ancora annunciati. Da Gabriele Rossi, che proprio al settimanale di Alfonso Signorini ha parlato della sua storia d'amore con Lorenzo Licitra, passando per Jessica Notaro, Victoria Silvistedet, Elena Santarelli e Ida Jespica. Questa mia teoria potrebbe essere fondata? Lo scopriremo la prossima settimana sfogliando il nuovo numero di chi.